Se non hai più accesso all'email e al numero di telefono associati al tuo account Aruba, non preoccuparti. Adesso ti mostro la soluzione alternativa per recuperare lo username del tuo account. Collegati alla pagina gestioneaccessi.aruba.it. Clicca su Hai dimenticato il tuo username Aruba? Compila uno dei seguenti campi in base ai dati in tuo possesso. Inserisci il codice monouso visualizzato nell'immagine indicata e prosegui. Clicca su Non hai accesso a questi dati? Modificali. Dalla seguente pagina inserisci i dati che saranno utilizzati per identificare il titolare del tuo account Aruba, tra cui nome, cognome, dati di residenza. In caso di persona fisica puoi modificare l'email e il numero di cellulare da utilizzare come riferimento. Assicurati di poterli controllare perché il sistema invierà un codice di verifica. In caso di persona giuridica puoi modificare anche la ragione sociale. Infine allega una copia a fronte retro del documento l'identità valido e leggibile del richiedente. Adesso prosegui. Verifica la correttezza dei dati. In caso di errori modificali dal pulsante indicato. Accetta la clausola. Clicca su Invia richiesta. Inserisci il codice ricevuto tramite SMS e confermalo. Ben fatto! La procedura è terminata. La tua richiesta verrà presa in carico da un operatore che eseguirà le modifiche dopo aver verificato la correttezza dei dati e degli allegati.